si si ma non sono ma non sono tanto 3 tiri e scuola la partiera ma perché sono sempre ditt Portuguese ok basta tutto a posto? Dottore a bandiera? ehi i G4 sono una prova da posti voi state qua? ancora a Cammia ora siamo ancora a letto ora a Cammia iniezioni via sei giri per me Vai qui, vai, vai, subito, fischio, vai! Adesso per il premio Appi, adesso per il premio Appi. Sta arrivando la corsa. Bravo! Bravo! Vai, show! Brazola! Rihanna! Ecco, la corsa. Vai, inforilmez, vai! Per il premio Appi. Bene, Raffaele! Ricchia! Sta scoperto i dividiti! Bravo, Ricchia! Guarda, guarda, se ne è rinforzato! Vai! Non smetterli per andare! Ha! Adesso... Paola più. Como se tiene, passare a la teniera. Guarda, non andiamo. Vai, miacchi! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai Maki! Vai, 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 vai! Sì, la vuoi, perché è il topo di me d'oreste, allora se non c'è. L'ultimo giro per la tecna della corsa, eccolo, l'ultimo giro, l'ultimo giro, l'ultimo giro. Eccolo, è lui, è sì eh. Grazie.